S.S. furti sulla collina San Marco d'Agropoli. I ladri sono entrati in azione nella prima serata di ieri. Ben quattro le abitazioni svaliggiate dai soliti ignoti, nello specifico due ville private e due appartamenti residenziali ubicati tra via Mozart, Vienna e della Lanterna. Da una prima ricostruzione dei fatti si presume che ad agire possa essere stata una sorta di banda che sanno com'è agire e quindi organizzata. Si presume che ladri professionisti abbiano studiato i colpi a tavolino, visto che negli immobili presi di mira non vi era nessuno. Quando infatti le ignare vittime ieri sera sono tornate a casa, hanno dovuto fare i conti con la sgraditissima visita dei lestofanti. Pare che abbiano preso soldi ed oggetti preziosi dopo aver messo a suo quadro le abitazioni e rovistato dappertutto, arrecando anche non pochi danni. In immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della liquida radiomobile della locale compagnia diretta dal capitano Fabio Logarello. Gli inquirenti hanno avviato le indagini del caso per scoprire gli autori dei furti che hanno creato non poco allarme e preoccupazione tra i residenti della zona. Inoltre i carabinieri stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza di telecamere installate nei pressi delle case per cercare di raccogliere gli indizi utili a risalire all'identità della gang di ladri. Anche a Deboli ieri sera si è registrato un furto in abitazione nella zona di Serracapilli. Un residente ha postato su Facebook, purtroppo è capitato anche a me, i ladri ieri sera sono entrati in casa nostra, hanno rischiato per quasi nulla. Gli do atto di aver avuto coraggio. Non so se siano stati più fortunati loro o noi. I vicini e gli amici si sono allertati subito, abbiamo un gruppo di zone e altrettanto le forze dell'ordine. Poi lancia l'appello. Cerchiamo di stare più attenti. Noi andiamo al lavoro come tutti i giorni. Vi auguro buona giornata.